L'oratorio di San Giorgio in Piazza del Santo, edificio patrimonio UNESCO della città, affrescato nel XIV secolo da Altichiri da Zevio e Jacopo Avanzo, ora ha una copia digitale alla portata di tutti. La veneranda Arca di Sant'Antonio e la padovana Geolender hanno realizzato un incontro ravvicinato con il monumento. L'esperienza è molto simile a quella che immaginavamo in fantascienza, oggi la distribuzione digitale di un bene di questo genere permette a chiunque nel mondo di poterlo vivere a pieno e tutto sommato di vivere un'esperienza che è molto simile, non può sostituirsi chiaramente alla fisicità di una presenza nel luogo ma consente sicuramente di cogliere dei dettagli che il nostro occhio nudo non può vedere. Una mappatura al millimetro eseguita con laser scan di tutta la struttura dell'oratorio, affreschi ad altezza occhi ravvicinati, sempre digitali però, quando dal vero spesso sono lontani e in alto. Una digitalizzazione che permetterà di confrontare nel tempo lo stato di conservazione dell'oratorio. E poi la possibilità di avere da parte un deposito a cui fare riferimento qualora serva prendersi cura di questi affreschi a titolo di conservazione o di studio. Da quando Padova è diventata Urb Spicta ha quasi raddoppiato il numero di volte in cui il suo nome è stato digitato sulla tastiera di un computer, mentre le ricerche fatte con le due parole latine in tre anni sono aumentate del 1200%. I numeri dei turisti a Padova sono in ripresa, dopo il record del 2019 con 1.700.000 presenze e il crollo per il Covid, nel 2021 hanno sfiorato il milione. Altro dato importante, le presenze nei musei. Nel mese di settembre-ottobre addirittura superiamo i dati già di per sé record del 2019. Cappella degli Scrovelli e Palazzo della Ragione presentano presenze fenomenali altissime. Come dire, il periodo autunnale è il momento delle città d'arte. L'obiettivo è di arrivare quest'anno a due milioni di turisti e il Comune si sta attivando per questo, guerra permettendo.